ciao qui lipranti oggi vedremo insieme il nuovo gioco elettronico di chica boom il digipop ma prima mi raccomando cliccate sul bollino blu lipranti iscrivetevi al nostro canale troverete tutti i giocattoli del mondo nuovi vecchi strani bizzarri e tutti i loro segreti scopriremo quante cose hanno veramente da raccontarci i giocattoli mettete un bel like allora il digipop dicevamo un gioco elettronico serve a passare il tempo divertirci allenare la memoria e un pochino la manualità per i bimbi più piccoli costa 12 euro e 99 ogni scatoletta è disponibile in sei colorazioni diverse e possiamo comprarlo in edicola nei negozi di giocattoli oppure anche sul loro sito shop punto cica boom punto com trovate il link qui sotto in descrizione anzi andate proprio al loro sito così utilizzando il nostro codice sconto lipranti 20 lo leggete anche in descrizione avrete il 20 per cento di sconto su tutti i prodotti a catalogo sul lato della scatola del digipop vediamo le quattro modalità di gioco insomma questa piccola console può essere utilizzata in quattro modi diversi li vedremo tutti in questo video mentre qua dietro possiamo scoprire quali sono i sei colori disponibili apriamo le nostre due scatole per vedere quali colori abbiamo trovato noi abbiamo uno blu eccolo qui e poi l'altro lo esauriamo anche al volo eccolo qui il koala abbiamo trovato e l'orsetto per attivare il digipop dovremo inserire tre pile mini stilo che non sono incluse è facilissimo è sufficiente svitare lo sportellino e inserire le batterie il nostro piccolo dispositivo è dotato di quattro pulsanti tre sono ben visibili qui davanti e poi uno grosso qua dietro che serve anche a rigonfiare tutte quante le bolle premiamo il pulsante di accensione benvenuti a questo rompicapo adesso si illumina il quadro comandi i giochi sono quattro modalità diverse push the key to start the game cioè premi il pulsante per indiziare a giocare beh saranno tutti i giochini che vorranno farci schiacciare queste bolle seguendo la giusta sequenza il più velocemente possibile non dimentichiamo che non bisogna mai disturbare le altre persone se stanno lavorando studiando oppure ecco infatti oppure se è tardi e la sera possiamo regolare il volume premendo il primo pulsante premiamo una volta per abbassare il volume due volte ancora più basso tre volte adesso è muto e se premo di nuovo posso alzarla a piacimento vediamo la prima modalità di gioco premendo una volta il terzo bottone memorize mode le bollicine si accenderanno in sequenza e noi dovremo ripetere la giusta sequenza e diamo conferma per passare al livello successivo ci sono tantissimi livelli non dimentichiamo che le bollicine si illuminano quindi bello sarà giocarci al buio dall'accensione premiamo due volte per vedere la seconda modalità di gioco scoring mode ok dobbiamo premere solamente le bollicine che si accendono e poi ricarichiamo premendo il pulsante qua dietro se ne accendono sempre di più diventa sempre più difficili è più diciamo a schiacciarne in un minuto più siamo bravi ne avevo dimenticata una premiamo tre volte per arrivare a multiplayer mode ok adesso diamo il via dovrò premere le bollicine che si accendono e la freccia mi indica di passare il gioco al mio amico adesso fratellone non c'è quindi farò tutto io oh passa di nuovo a me ok sono sempre di più all'accensione se non premiamo affatto il terzo bottone oppure se lo premiamo quattro volte e torniamo alla partenza questo è il gioco più semplice il level mode diamo il via dobbiamo premere le bollicine che si sono illuminate e quando superiamo cinque sottolivelli con la musichetta si va avanti diamo il via man mano che si va avanti ci saranno sempre più bollicine da schiacciare e così abbiamo visto insieme il nuovo giochino elettronico di chica boom il digipop esiste in sei colorazioni diverse qui ne abbiamo due ad esempio ed ogni piccola console vi dera modo di giocare in quattro modalità diverse le regole sono semplicissime se vi è piaciuto lo trovate nei negozi di giocatori oppure in edicola al prezzo di 12 euro e 99 ma se andate sul loro sito shop.chicaboom.com è indicato anche qui sotto c'è il link nella descrizione beh lì utilizzate il nostro codice sconto librandi 20 ed avrete il 20 per cento di sconto su tutti i prodotti a catalogo allora mi raccomando se il video vi è piaciuto cliccate qui su mi piace condivideteli iscrivetevi al nostro canale ci sono giocattoli di ogni tipo e si imparano tantissime cose incredibili che i giocattoli hanno da raccontarci ciao